Il palazzo municipale di Campi Salentina ha ospitato questa mattina la presentazione della Svigat Rugby, squadra che punta al salto di categoria. Obiettivo dichiarato del club è infatti l'approdo in Serie B. La città di Campi meritava un nuovo corso dopo gli anni gloriosi della Consolini, che tutti i campiotti ricordano con piacere e con nostalgia. E' un binomio semplicemente mirato a far diventare evidente l'impegno educativo del rugby, tanto è vero che privilegiamo sicuramente la prima squadra in questo momento di grande splendore. Però guardiamo le giovanili con grande attenzione. Il rugby è uno sport che educa i ragazzi ad affrontare le difficoltà della vita in maniera seri ed equilibrata, dove non ci sono né finte né simulazioni. E questo è una cosa importante per la crescita morale dei ragazzi. Per quanto riguarda l'impegno invece da parte di un'impresa, di un'azienda come la mia, come sostenitore, primo sostenitore di questa iniziativa, è la risposta a quanto ho letto tempo fa sui giornali, che l'impresa dimentica di sostenere gli sport giovanili. Noi siamo in questo tipo di attività, siamo presenti da oltre 20 anni, non sempre siamo stati compresi anche dalle autorità amministrative e fiscali di questa provincia. Ma andiamo avanti lo stesso nel rispetto di quello che è il nostro motto principale, che è quello di largo e giovani. Il ricambio generazionale ci deve essere sempre e dappertutto. Riportiamo un po' di gloria qui a Campi, lo faremo sicuramente facendo sentire i nostri muscoli, ma anche la nostra tecnica, la nostra serietà, la nostra responsabilità. Comincia domani il campionato, siamo già fin d'ora convinti di portare a Campi un primo risultato fortemente positivo. Poi un invito a tutti per il giorno 14, che sarà il nostro primo esordio di questo squadrone in casa, sapremo rispondere alle aspettative dei campioti e di tutti gli amanti del rugby. Cosa manca a Salento per avere una risposta di pubblico come quella che per esempio ci ha attreviso? Manca la cultura, che è la cosa fondamentale. Poi mancano soprattutto i tecnici. Da quello che ho notato ci sono tecnici non di grande qualità e alle squadre, soprattutto ai ragazzi. Per farli crescere hanno bisogno di tecnici di qualità. Lanciamo un messaggio ai ragazzi, perché scegliere il rugby? Il rugby è uno sport che unisce, ti fa crescere e ti aiuta nella vita. Giocando al rugby si imparano un sacco di cose e si cresce. Io non rimpiango nessun momento, perché mi sono divertito tantissimo giocando al rugby e se tornassi indietro lo rifarei.